Convegno sulla Vespa Veluttina a Sanremo, è presente anche la regione Liguria con Gabriele Cascino, un problema importante per gli apicoltori soprattutto? Sicuramente per un comparto che per la nostra agricoltura è importante, è fondamentale, questo nuovo pericolo che sta arrivando, già in Francia si è manifestato, in Liguria abbiamo le prime visaglie, la regione ha presente il problema, sta iniziando a porre in essere delle iniziative per cercare di combattere questo fenomeno e garantire a questo nostro importante settore dell'agricoltura un sano sviluppo. Un settore, quello dell'apicoltura, molto importante anche in provincia di Liguria dove si produce molto miele di qualità? Sicuramente, è conosciuto in tutta Italia, è una produzione di nicchia ovviamente, date le quantità, però la qualità è veramente riconosciuta in tutto il resto del paese.